A riscosso notevole successo anche l'edizione 2018 del Carnevale di Villaviani, organizzato dalla Proloco con grandi e piccoli maschere a fare festa. Del resto Villaviani è ormai il paese dei bambini che si sono riuniti nello spazio polisportivo di Borgo Barnati, domenica baciato dal sole in un giorno fortunato. Una giornata limpida come lo spirito dei partecipanti per un Carnevale divertente e senza eccessi. Nel corteo spiccano le classiche soluzioni valligiane, non cari allegorici, malape, piaggio, tutto fare da queste parti, con un bel carico di maschere di ogni tipo e una presa in giro della sanità. A seguire giochi per tutti con la cortezza e la divisione in fasci di età. La corsa nei sacchi un vero spettacolo ginnico, il tiro alla fune in un caleo di oscopio di colori, la vera apoteosi però è stata la pentolaccia. A ogni pentolaccia squarciata un tripudio di coriandoli, grande tuffo collettivo per acchiappare le caramelle. L'aperitivo si è trasformato in un pranzo vero e proprio con i manicaretti sfornati dalle sapiente cucine locali. Buffet concluso dalle classiche bugie di carnevale. Tanti anche gli ospiti e visitatori che hanno scelto Villaviani come meta domenicale.